Oggi, invece della consueto media, vi propongo una meditazione di Don Prospero Granger sul mercoledì dei ceneri. Sappiamo chi è Don Prospero, fu uno dei più grandi miturgisti dell'epoca moderna, parliamo degli anni intorno al 1850 in Francia, fu veramente rinnovatore del momento liturgico. Bene, vedremo in breve alcune sue riflessioni sul inizio della quaresima. La catechesi inizia con un paragrafo intitolato L'appello del profeta e si riferisce appunto al profeta Gioele, che è il protagonista della prima lettura della celebrazione odierna. Dice, ieri il mondo si agitavano i piaceri e gli stessi cristiani si abbandonavano ai leciti divertimenti. si riferisce ovviamente al carnevale. Divertimenti leciti, sottolinea, leciti non illeciti, quindi tutto quello che era peccato doveva essere escluso dal giusto divertimento carnevalesco. Ma questa mattina ha squillato la sacra tromba di cui parla il profeta Gioele, poi vedremo appunto. per annunciare l'apertura solere del digiuno quaresimale, il tempo dell'espiazione, l'imminente avvicinarsi dei grandi anniversari della nostra salvezza. Gestiamoci i cristiani e prepariamoci a combattere le battaglie del Signore. E quali sono gli anniversari della nostra salvezza? E' chiaro, insomma, la Pasqua e le feste susseguenti, ma qui il Don Prospero parla di tromba, sacra tromba. Perché? Perché in Israele, sapete, l'inizio delle battaglie era proprio sottolineato da squilli di tromba. Ecco allora che siamo svegliati, siamo così esortati alla battaglia, o meglio, a combattere le battaglie del Signore. Non le nostre battaglie, ma quelle del Signore. E' importante distinguere tra ciò che è la nostra battaglia, i desideri nostri, le volontà di prevaricazione e tutto il resto, da quello che invece è la battaglia del Signore, che ovviamente è contro il male, contro il maligno. Non contro i peccatori, ma contro il peccato. E' importante, ricordiamocelo sempre. La Chiesa condanna il peccato, ma non il peccatore. Nel paragrafo successivo, intitolato L'armatura spirituale, Don Prospero dice Ricordiamoci però che nella lotta dello spirito contro la carne dobbiamo essere armati. E vabbè, si sa, non si può andare in battaglia senza armi, sarebbe, no? Ricordate San Paolo, l'armatura, lo scudo della ferida, eccetera. Ecco perché la Santa Chiesa ci accoglie nei suoi templi per iniziarci alla milizia spirituale. Tenete conto che queste parole sentono un po' il clima in cui viveva Don Prospero nel 1850. Insomma, in Francia non erano proprio anni tranquilli. Ecco perché appunto questo gergo militaresco San Paolo ce ne ha già fatto conoscere i dettagli della difesa con queste parole. Ecco qua, dice Così l'armatura del cristiano dice Cingetevi con la verità, la giustizia e calzate i piedi in preparazione del Vangelo. Perché dice questo? Perché se vi ricordate c'è un brano di Isaia che dice Come sono belli i piedi di coloro che annunciano eccetera eccetera Quindi esattamente quello è un riferimento biblico a Isaia Prepariamoci a portare il Vangelo Dice in sostanza Però soprattutto usate lo scudo della fede Eh, la fede è uno scudo C'è poco da fare Ci protegge dagli assalti del maligno Dai sassi e i dardi della diversa fortuna Direbbe Shakespeare Ma ecco un bello scudo robusto Ci protegge insomma L'elmo della saldezza E la spada dello spirito Cioè la parola di Dio Se vi ricordate anche Gesù dice Sono venuto a portare la spada La spada non è uno strumento di offesa Ma è invece la parola di Dio Che taglia Fa capire ciò che è bene e ciò che è male E tutto il resto E poi ancora Don Prospero Il Principe degli Apostoli aggiunge Avendo Cristo patito nella carne Armatevi anche voi dello stesso pensiero E continua Ricordandoci oggi la Chiesa Questi apostolici insegnamenti Ne aggiunge un altro Non meno eloquente Obbligandoci a risalire dal giorno della prevaricazione Che rese necessarie quelle lotte Che stiamo per intraprendere E le espiazioni attraverso le quali dobbiamo passare Questo paragrafo è un po' oscuro diremmo Sicuramente è riferito al peccato Insomma al peccato originale Che poi generò tutta una serie di problemi Che stiamo ancora scontando oggi E quindi è necessario intraprendere la lotta Contro il peccato Che particolarmente è un concetto presente nella quaresima Ma potrebbe anche avere una connotazione politica Non dimentichiamo appunto gli anni in cui visse Don Prospero Quindi è qualcosa riferito anche alla situazione politica europea A questo punto, nel 1948 e anni seguenti Ci sono probabilmente dei riferimenti anche politici Ma del resto la Chiesa da sempre ha dovuto fare i conti con la politica A partire dagli imperatori che perseguitavano i cristiani Anzi ancora prima da Giovanni Battista Il quale andò da Erode eccetera eccetera Quindi vabbè Il paragrafo successivo si chiama I nemici da combattere Don Prospero dice Noi siamo assaliti da due sorte di nemici Le passioni dentro il nostro cuore E il demonio fuori Entrambi i disordini che derivano dalla superbia Se vi ricordate Gesù dice chiaramente Nulla da fuori può farvi del male Quindi non è il maiale piuttosto che il cibo Non kosher, non rituale che vi fa del male Ma sono invece tutte le passioni disordinate Sregolate che nascono nel vostro cuore Si pensava ai tempi che il cuore fosse la sede dei sentimenti Invece no il cuore pompa sangue Però ai tempi si pensava a quello E poi dice invece il demonio fuori Il demonio evidentemente è il mondo Inteso in modo negativo Il mondo, il principe del mondo È esattamente il demonio Se vi ricordate quando Lucifero porta Gesù In cima al monte E gli mostra tutte le bellezze del creato E dice tutte queste cose io te le darò Se ti prostrerai mi adorerai Gesù non dice guarda sei un bugiardo Non è vero Lo sa che il demonio ha una giurisdizione Diciamo così sul mondo È il principe del mondo Quindi ecco allora che dobbiamo Liberarci anche di queste tentazioni esterne Che derivano dalla superbia Il primo peccato dell'umanità fu quello della superbia Voglio essere come Dio Sarete come gli dèi E ancora prima il peccato angelico Appunto Lucifero era quell'arcangelo meraviglioso Più splendente Portatore di luce vuol dire Lucifero E il quale volle farsi come Dio anche lui E arrivò poi Michele Il cui nome in ebraico è Michiel Cioè sarebbe chi come Dio Nessuno è come Dio Risposta lo cacciò In malo modo dal paradiso Dio lo precipitò sulla terra E poi appunto all'inferno Questa era tradizione della Chiesa Dice ancora Don Prospero L'uomo si rifiutò di obbedire a Dio Ciò nonostante Egli lo risparmiò Ma alla dura condizione di subire la morte L'uomo disse Do sei polvere E in polvere ritornerai Guarda caso È esattamente quello che il celebrante dice oggi Quando si va a ricevere le sacre generi Perché dimentichiamo quell'avvertimento A Dio bastò solo premunirci contro noi stessi Comprese il nostro niente Non avremmo mai dovuto infrangere la sua legge Se ora vogliamo perseverare nel bene Al quale ci ha ricondotti la sua grazia Dobbiamo umiliarci Accettare la sentenza E considerare la vita come un viaggio più o meno breve Che termina la tomba E vabbè Abbastanza chiaro Sotto questa luce Tutto diventa nuovo Ogni cosa si schiarisce Dell'immensa sua bontà Dio che si compiacque di riversare tutto il suo amore Di noi Essere i condannati alla morte Ci appare ancora più ammirabile Nelle brevissime ore della nostra esistenza L'ingratitudine e l'insolenza Con cui ci scagliamo contro di lui Ci sembrano sempre più degne del nostro disprezzo E più legittima è salutare la riparazione Che ora c'è possibile E che egli si degna di accettare Quindi in sostanza il Signore ci offre Questa possibilità di riparazione al nostro errore Dice ma l'errore non è nostro Quello casomai di Adamo e Eva Qualcuno potrebbe dire No No Perché sapete Noi esseri umani Siamo tutti quanti collegati E questo è un concetto molto chiaro nel brevismo Ma un po' meno nel cristianesimo Nel senso che l'ebraismo ti dice Sì Tuo fratello tua sorella ha peccato Ma guarda che quel peccato È anche colpa tua Perché Non hai saputo Proteggere Non hai saputo consigliare Non hai saputo Pregare per quel fratello Quella sorella Quindi è chiaro che Anche tu sei in qualche modo Corresponsabile del peccato Ecco il senso ebraico Dell'essere corresponsabili Del peccato di Adamo e Eva Quindi Ciò che uno fa Poi si ripercuote Su tutti gli altri E noi siamo figli di Adamo e di Eva Insomma Poco da fare Ma se questo è vero Ed è vero E' vero anche il contrario Cioè Se uno paga il riscatto Fa espiazione Eccetera eccetera Allora tutti quanti sono redenti Pagano il riscatto Ed è proprio quello che fece Il nostro Signore Gesù Cristo Con la sua passione Morte e resurrezione Ecco perché Possiamo dire Tranquillamente Che il sacrificio di Cristo Ha giovato A noi I meriti sono suoi Non sono nostri Ecco Poi c'è un paragrafo Inditolato L'imposizione delle ceneri Dice Don Prospero A questo pensava la Santa Chiesa Quando fu indotta Ad anticipare Di quattro giorni Di giuno Quaresimale Che di per sé Inizia Domenica Nel rito ambrosiano Ancora oggi E' ad aprire Questo sacro E' ad aprire Questo sacro tempo Cospargendo di cenere La fronte Colpevole Dei suoi figli E riprendendo ciascuno Di loro E parole Con cui il Signore Li condannava alla morte Come segno di umiliazione E penitenza Però l'uso del cenere E' molto anteriore A questa istituzione Infatti Lo troviamo Perfino praticato Nell'Antico Testamento Perfino Giobbe Che apparteneva Alla gentilità Copriva di cenere La sua carne Didagnata Dalla mano di Dio Per implorare Così la sua misericordia Dice Don Prospero Però non è la chiesa Cristiana Che ha adottato Che così Ha inventato Per così dire L'usanza delle ceneri No Si trova Nell'Antico Testamento Giobbe Appunto Che dice Non era ebreo Apparteneva alla gentilità Vuol dire questo Vuol dire che non era ebreo Si cospargeva Il capo di cenere Per implorare La misericordia di Dio Quindi Più tardi Il salmista Nell'ardente Contrizione Del suo cuore Mescolava cenere Nel pane Che mangiava C'è un salmo Appunto Che parla Di mangiare Mescolare La cenere Con l'acqua Col pane Eccetera Analoghi esempi Abbondano In libri storici E profeti Dell'Antico Testamento Si avvertiva Anche allora Il rapporto Esistente Tra la polvere Di una materia Bruciata E l'uomo peccatore Il corpo Del quale Sarà disfatto In polvere Sotto il fuoco Della giustizia divina Per salvare Meno l'anima Il peccatore Ricorreva alla cenere E nel riconoscere Quella triste fraternità Con essa Si sentiva Al più Al riparo Dalla collera Di colui Che resiste I superbi E perdona Gli umili Sì E quel linguaggio È appunto Ottocentesco Quindi Suona forse Un po' Meniloquente Un po' Ritorico Però di fatto È esattamente Quello Quindi Il rapporto Tra il corpo E la cenere Questo Di conoscersi Cenere E poi Permette Conseguentemente La salvezza Dell'anima Il paragrafo Dopo Si intitola I pubblici penitenti L'uso liturgico Delle ceneri Al mercoledì Quinquagesima Appunto ai tempi Era Quinquagesima Quadra Non sembra Che in origine Sia stato imposto A tutti i fedeli Ma solo I colpevoli Di certi peccati Soggetti Alla pubblica penitenza Della chiesa Potete sapere Che Nel primi secolo Di cristianesimo Le penitenze Erano pubbliche E quindi Chi commetteva Un peccato Grave Doveva dirlo A comunità Che ne so Ho tradito Mia moglie Ho tradito Mio marito Ho rubato Eccetera Eccetera C'era proprio Un'umiliazione Pubblica Davanti alla comunità E a questi colpevoli Di peccati gravi Si imponeva La cenere Si metteva cenere Sul capo Per dire Pentiti Come fece Giobbe E tutto il resto Dice In questo giorno Prima della messa Cioè Mercurio delle ceneri Si presentavano In chiesa Dove stava Raccolto Tutto il popolo I sacerdoti Ricevevano La confessione Dei loro peccati Quindi Li vestivano Di cilizi Il cilicio Era una stoffa Particolmente ruvida E spargevano Sulle loro teste La cenere Dopo questa Cerimonia Il clero E il popolo Si prostravano A terra Mentre Ad alta voce Venivano recitati I sette salmi Penitenziari Successivamente Aveva luogo La processione Durante le quali Venitenti Camminavano A piedi scalzi Di ritorno Erano Sollenamente Cacciati fuori Dalla chiesa Dal vescovo Pensate Venivano Addirittura Esclusi Dalla chiesa Il vescovo Diceva Vi scacciamo fuori Del recinto Della chiesa A causa Di vostri peccati E delitti Come fu scacciato Fuori dal paradiso Il primo uomo Adamo A causa Dalla sua Trasgressione Mamma mia Cioè Non scherzavano Non era La nostra confessione Di oggi Auricolare Quella che Si fa Al confessore Ma lì c'era Una Quasi Una Una Rappresentazione Sacra Un dramma I penitenti Cacciati fuori Dalla chiesa Come Adamo Fu cacciato fuori Dal paradiso Quindi si ripeteva Si riproponeva Quel Brano biblico Poi Il clero Cantava Diversi Responsori Tratti Dalla genesi Dove erano Ricordate Le parole Del signore Che condannava L'uomo Ai sudori E a lavorare Sulla terra Ormai Maledetta A causa sua Ormai Maledetta A causa sua E quindi Vedere il peccato Dell'uomo E poi Dice Genesi E poi La terra Andando Andando in Andando in Direzione Con tutti I problemi Che ha L'universo In termini Inquinamento Di Distruttamento Discriminato Povertà Di miseria Ecco Finchè I penitenti Penitenza Dice Un po' Esagerata Paragrafo Successivo E dice Estensione Gravi Ripercussioni Immaginatevi Se Un marito Tradiva la moglie Lo diceva in pubblico La moglie Tra i presenti Supponiamo Quindi Poteva causare Parecchi guai I problemi Nel rapporto Matrimoniale E così via E allora Entrò In uso corrente La confessione Auricolare Cioè Fatta Il segreto Del confessionale Con il confessore Però Dice La cenere È rimasta Quest'usanza Che Era proprio Del mercoledì Santo Nelle penitenze Solenni Rimase Proprio Come cerimonia Poi Diventò Parte Della liturgia Romana Non Ambrosiana Perché Nella rita Ambrosiana Non c'è Mercoledì De Ceneri È difficile Dire esattamente In quale Epoca Si produsse Tale evoluzione Sappiamo Solo Che Nel concilio Benevento 1091 Urbano Secondo Ne fece Un obbligo A tutti I fedeli Dice La prima Il primo documento Ufficiale Che parla Dell'imposizione Delle ceneri È quello Di Urbano Secondo 1091 Il quale Durante il concilio Che si tiene Benevento Obbligò I fedeli A ricevere Obbligò I fedeli A ricevere Le ceneri Non propose Obbligò I fedeli A ricevere Sul capo La cenere L'attuale cerimonia È descritta Negli ordines Del dodicesimo secolo Le antifone Le responsorie Le preghiere Della benedizione Dei ceneri Erano già in uso Tra l'ottavo E il decimo secolo E qui viene fuori Chiaramente Il liturgista Che Il grande liturgista Che era Don Prospero E dice Si ripresero Antichi Responsori Antifone E preghiere Già Utilizzati Nei secoli Precedenti Che cosa sono Gli ordines Gli ordines Sono delle raccolte Liturgiche Sono dei libri Che raccoglievano In pratica Le usanze Liturgiche Fin dai primi secoli Fino almeno Dal Terzo Quarto Quinto secolo Poi Fino al Quindicesimo Erano Rubriche Non erano Preghiere Orazioni Era semplicemente La descrizione Di una certa Cerimonia Fatta in un certo Modo In un certo Luogo Quindi Sono molto Preziosi Per i liturgisti E ovviamente Anche per Don Prospero E dice La cerimonia Attuale È descritta Bene Nell'ordines Del dodicesimo Secolo Quindi in questo libro Che riguarda Il dodicesimo secolo Si parla proprio Dell'imposizione Delle ceneri Dice ancora Una volta i cristiani Si avvicinavano a piedi nudi A ricevere L'ammonimento Sul niente Dell'uomo E ancora Nel dodicesimo secolo Lo stesso papa Per recarsi Da Santa Anastasia A Santa Sabina Due basiliche romane Peraltro Non tanto vicine Quindi Facceva un bel pezzetto A piedi Dove era la stazione Faceva tutto Il percorso Senza calzatura Quindi Perfino il papa Andava scalzo Nel periodo Nel periodo Per cui Delle ceneri E come pure I cardinali Che l'accompagnavano Spettacolo Immaginatevi Il santo padre Con il corteo Dei cardinali Scalzi Che facevano Il percorso Da Santa Anastasia A Santa Sabina Allora Poi la chiesa Bitigò Questo rigore esteriore Ma continuò A dar valore Ai sentimenti interni Che deve produrre Noi Un rito Così espressivo Poi la chiesa Pian piano Un po' Addolcito Ha ridotto Il rigore Esterno Per dare Valore Ai sentimenti interni Quindi Dice Gesù Ci concidetevi Non la carne Ma il cuore Quindi I sentimenti Eccetera Come abbiamo Ora detto La stazione odierna E a Roma In Santa Sabina Sull'Aventino Aprendosi così Sotto gli auspici Di questa Santa Martire La penitenza Quaresimale Chi era Santa Sabina? Santa Sabina Era Una martire Romana Vissuta Intorno al 120 Ecco Queste le notizie storiche E di famiglia nobile Ricca Sposò Un certo Valentino Senatore Romano Se non che Lei si convertì A cristianesimo Fu una Probabilmente Prime Convertite Della fascia Nobile Romana A cristianesimo E quindi Frequentò I luoghi di riunione Quindi le case Dei cristiani Non c'erano le chiese Ai tempi I cristiani Dicevano a messa Spezzavano il pane Nelle case Dei vari fedeli E poi Nelle catacombe Come luoghi Di ritrovo Catacombe Erano I cimiteri Però I cristiani Si radunavano lì Per sfuggire Anche alle persecuzioni Comunque Durante una celebrazione Eucaristica Fu catturata E Le fu proposto Di abbiurare Il cristianesimo Quindi di adorare Gli dei romani Cosa che Evidentemente Non fece E fu decapitata Insieme Alla sua Governante Serapia E le reliquie Sono appunto Nella basilica Omonima Perché si pensa Fosse il luogo Del martirio Comunque un luogo Frequentato O la stessa casa Di Sabina Comunque un luogo Che la vede Così Protagonista Comunque torniamo Alla nostra cerimonia Delle ceneri Dice l'abate Prospero La sacra funzione Incomincia Con la benedizione Delle ceneri Ottenute Dalle palme Benedette L'anno prima Nella domenica Che precede la Pasqua Questo si sa Ancora oggi Le ceneri Sono Prodotte Dalla combustione Dei rami Benedetti Di olivo Di palma Della precedente Domenica Delle palme Dell'anno prima La nuova benedizione Che esse ricevono In questa circostanza Allo scopo Di renderle Più degne Del mistero Di contrizione E di umiltà Che stanno A significare Dice Di Gioele Abbiamo detto Prima Dice Epistola Ai tempi Si chiamava Epistola L'Epistola Gioele Ecco Dice il Signore Ritornate a me Con tutto il cuore Con digiuni Con pianti E lamenti Laceratevi il cuore Non le vesti Ritornate al Signore E vostro Dio Perché egli Misericordioso E benigno Tardo all'ira E ricco di benevolenza E si impiedosisce Riguardo alla sventura Chissà che non cambi E si plachi Lasci dietro a sé Una benedizione Offerte Libazione Per il Signore De vostro Dio Suonate la tromba In Sion Ecco qua la tromba Quindi Comincia la battaglia Proclamate un digiuno Convocate un'adunanza Solenne Radunate il popolo Indite un'assemblea Chiamati i vecchi I riniti i fanciulli I bambini I lattanti Esca lo sposo Dalla sua camera E la sposa Dalla sua talamo Tra i vestiboli Altare Piangano i sacerdoti Ministri del Signore Dicono Perdona il Signore Al tuo popolo E non esporre La tua realtà Al vituperio E all'aderismo E delle genti Perché Che si dovrebbe dire Tra i popoli Dov'è il loro Dio Il Signore si morti geloso Per la sua terra E si muova Con passione Del suo popolo Il Signore ha risposto Al suo popolo Ecco vi mando il grano Il vino nuovo E l'olio E ne avrete a sazietà E non farò più di voi Il libro delle genti Ecco qui la penitenza Era prescritta Per tutti Praticamente Gli anziani I fanciulli I bambini Lattanti Perfino Invece no Adesso Sapete che il digiuno E l'astinenza Sono prescritte Dalla chiesa Solo Per persone Sane Che quindi Possono Ovviamente Fare il digiuno I malati Sono esclusi Ovviamente Tra i 18 E i 60 anni Compiuti Quindi questo È un po' La norma attuale Poi se uno Vuol fare il digiuno E non rientri In questa fascia d'età Vabbè Può farlo Però la chiesa Per sé Non lo richiede Invece I tempi Tutti quanti Anche gli anziani Anche i piccoli Partecipavano A questa A questa penitenza Pubblica Dice Lo sposo E la sposa Si astengono Dai rapporti Sostanzialmente Dice Evitate Per un periodo L'atto coniugale È un digiuno Anche quello Ovviamente E tra i vestiboli L'altare Piangono i sacerdoti Il vestibolo Era il luogo Dove ci si preparava Per la funzione L'altare Invece Era il luogo Della funzione Quindi Restate Dice Scusate Gioele Voi sacerdoti Restate Al tempio Per tutto Il tempo Quindi Non ve ne andate Tra vestibolo E altare State lì E piangete Implorate Alzate preghiere Al signore Perdona Il tuo popolo Non resporre L'attualità Vituperio Delle genti I genti Sono i pagani I gentivi Sono i pagani Siamo noi Pratica I goim I goim Che peraltro In ebraico Non ha Un senso Tanto Tanto positivo E i goim Sono le bestie Che parlano Ecco Letteralmente Ma i gentili Non circoncisi Diciamo così E non esporre Il tuo popolo Al bituperio A derisione Dei gentili Se fate questo Dice il signore E poi invece Vi manderà Grano Vino Nuovo Olio A sazietà Quindi Vi premierà Vi ricompenserà Per il vostro Il vostro Digiuno Quaresimale Questo è un po' Il senso Della lettura Di oggi Di Gioele E poi c'è il commento Il breve commento Di Don Prospero C'è questo Magnifico passo Del profeta Ci rivela L'importanza Che il signore Dà l'espiazione Fatta col digiuno Quando l'uomo Contrito Dei propri peccati Affligge la sua carne Dio si commuove Questo è un punto Misterioso Se Dio è perfetto La perfezione De tutte le perfezioni È impassibile E quant'altro Si commuove Pare di sì Pare di sì Perché Più volte Nella Bibbia C'è scritto Che Dio Prova Commozione Prova Sentimenti Umani Come sia È un mistero Ovviamente Non è Probabilmente Non sono i sentimenti Che proviamo noi Però ecco È certo Che il signore Non è impassibile Non resta lì Nella sua perfezione Come pensava Aristotele Dio Aristotelico Pensa solo a se stesso Diceva Invece Il Dio cristiano Ha dei sentimenti Ecco Come dimostra Anche esempio Di Ninive Ricordate No Giona Fu mandato A predicare A Ninive Tra l'altro Con delle parole Decisamente poco Adatte Appropriate O vi convertite O morrirete tutti Questo disse Praticamente Ancora 40 giorni Invece sarà distrutta Gridò Ai Niniviti Che erano nemici Giurati degli ebrei Tra l'altro Quindi rischi anche parecchio Giona Andando a Ninive E il signore I Niniviti Fanno quello che Giona dice Quindi si Vestono di sacco Siedono sulla cenere Digiunano tutti Anche gli animali Dice Il libro di Giona Anche gli animali Iona vuol dire Colomba In ebraico E quindi Ecco il signore Vede La buona volontà Dei Niniviti E li risparmia Quindi laddove Giona Invece era Fondamentalista Quello no Che Così Mette Un out out O vi convertite O sennò Tutti quanti Morirete Invece il signore Ha compassione Più compassionevole Di Giona Ecco qui Il signore Prova dei sentimenti Ecco Questi sono i brani In cui si parla Dei sentimenti Di Dio E dice Il signore Perdonò All'immolazione Del corpo Il sacrificio Del cuore Quindi Don Prospero Dice Ma Se Niniviti Che hanno Semplicemente Fatto degli atti Esteriori Tipo Cospargersi Di cenere Vestire di sacco Eccetera Furono perdonati Dal signore Se noi A tutto questo Uniamo anche Il sacrificio Del cuore A voglia Ancordi più Il signore Avrà Compassione Di noi E poi Concludo Dicendo Affrontiamo Con Coraggiosamente La via Della penitenza Se L'affievolimento Della fede Del timore Di Dio Sembra Far cadere Intorno a noi Pratiche Antiche Quanto il cristianesimo Guardiamoci Da non esagerare In un rilassamento Così Pregiudizievole E complesso Dei costumi Cristiani Pensate già Alla metà Del XIX secolo Don Prospero Mette in guardia I cristiani Dal Troppo Rilassamento Se vi pare Esagerato Tutto quello Che facevano Però Neanche Rilassatevi Neanche Passate Così A Diminuire Troppo Queste penitenze Non cadete Nel rilassamento Pregiudizievole Ai costumi Cristiani Dice infine Riflettiamo Soprattutto I nostri Obblighi Personali Verso La giustizia Divina Abbiamo degli obblighi Siamo in debito Dice Don Prospero La quale Ci rimetterà I peccati Le penne Meritate In misura Che ci mostremo Premunosi Di offrirle La soddisfazione Qui a diritto Quindi Tanto più Faremo Con il cuore Con le azioni Con i pensieri Eccetera E quanto più Ci verrà dato Il cambio In termini di Penitenza Misericordia Per dono Dal Signore Poi c'è La conclusione Don Prospero Commenta Il Vangelo Di oggi Il Vangelo Dice in quel tempo Gesù disse I suoi discepoli Quando digiunate Non assumete Aria malinconica Come gli ipocriti Che si sfigurano La faccia Per far vedere Agli uomini Che digiunano In verità Vi dico Hanno già ricevuto La loro ricompensa Tu invece Quando digiuni Profumati la testa Lavati il volto Perché la gente Non veda Che tu digiuni Ma solo tuo padre Che è nel segreto E il padre tuo Che vede nel segreto Ti ricompenserà Non accumulatevi Tesori sulla terra Dove tignole Ruggine Consumano Dove ladri Scassinano E rubano Accumulatevi Tesori nel cielo Dove ne tignole Ne ruggine Consumano Dove ladri Non scassinano E non rubano Perché dov'è il tuo tesoro Sarà anche Il tuo cuore Abbastanza chiaro Insomma Comunque Conclude Don Prospero Il nostro Signore Non vuole che i cristiani Accolgano Il digiuno E spietore Con aria triste E lugubre Anzi Persuasi Che è tanto pericoloso Differire i conti Con la giustizia Si devono consolare E mostrarsi allegri Nell'avvicinarsi Di quel tempo Si salutare Perché sa in anticipo Che se saranno Fedele A prescrizione Nella chiesa Il peso del loro fratello Si alleggerirà Quindi Certo La cenere Il pianto Così Considerare il peccato Esami di coscienza Però Tutto questo Con Una Filigrana Diciamo così Di gioia Ecco Quindi curare il corpo Non sfigurarsi Profumarsi Eccetera eccetera Queste soddisfazioni Oggi Tanto mitigate Dall'indulgenza Della chiesa Quindi Tutte le azioni Penitenziali Di chiese E' una delle soddisfazioni Cosiddette Oggi mitigate Dall'indulgenza Della chiesa Se offerte a Dio Con quelle del redentore E fecondate Da quella Comunione Di opere propiziatori Che unisce In un solo fascio Le opere sante Di tutti i membri Della chiesa Militante Purificheranno Le loro anime Le faranno degne Di partecipare Le purissime gioie Della Pasqua Perciò Non dobbiamo essere tristi Perché digiuniamo Ma perché abbiamo Col peccato Reso necessario Il digiuno Questa è una bella Riflessione proprio Non essere triste Perché digiuni Sì piuttosto triste Perché col peccato E' stato Reso necessario Il digiuno Grazie Don Prospero Per questa Perla di saggezza Veramente Straordinaria Quindi Infine Il Signore Poi ci dà Altro consiglio Che la Chiesa Ci ricorderà Spesso nel corso Dei 40 giorni Aggiungere L'elemosina All'eprivazione Del corpo E' un terzo Appunto Dovere Del cristiano Condividere Ciò che si ha Quel poco Quel tanto Con chi non ha nulla Quindi Aggiungere Vuole che Tesorizziamo Ma Per il cielo Accumulate Tesori in cielo Non sulla terra Perché appunto I ladri Rubano Tutto il resto Quindi Dice ancora Don Prospero Abbiamo bisogno Di intercessori Lì dobbiamo cercare Tra i poveri O in giorno Di quaresima Eccetto Le domeniche Prima di congelare L'assemblea Dei fedeli Sacerdote Recita per loro Una preghiera Particolare Sempre preceduta Dall'esortazione Del diacono Umiliate Le vostre teste Dall'ianzi A Dio La preghiera È una forma Di benedizione Implorante Il impegno Della protezione Celeste Sui fedeli Che ritornano Alle ordinari Occupazioni Quindi Digiuno Astinenza Preghiera Penitenza Eccetera Però anche L'elemosina Essenziale Per accumulare Tesori in cielo Bene Allora Grazie per la pazienza E l'ascolto Vi auguro Un santo tempo Di quaresima In questo tempo Di pandemia Ja Grazie.